Bei bimbi nel bosco, bei bimbi nel bosco, vi ricordate di quei bimbi nel bosco? Grrr, grrr, ra ra ra, grrr, grrr, ra ra ra, ricordate un bel giorno d'estate, quei due bambini smarriron le strade, grrr, grrr, ra ra ra, grrr, ra 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 cammina Ansel! Perché non stai al passo? Perché non fai presto? Cammina! Anche se un po' mi fa paura, non ci succederà niente. Niente. Amunope Adonso Attraversa